La città come ha reagito secondo te a tutta la stagione? Guarda in generale prima dell'uscita della prima stagione ha vissuto con scetticismo e con rabbia nei confronti della serie temendo che la serie potesse raccontare in modo negativo quella che era la città ma poi ti dico noi abbiamo girato 5 stagioni, 8 mesi all'anno per 7 anni in ogni angolo di Napoli delle periferie, delle province siamo sempre stati accolti benissimo ma è avuto un problema diciamo che di Gomorra dopo la messa in onda, dopo che hanno visto il prodotto gli unici che hanno parlato male tra virgolette la serie era o qualcuno che voleva farsi pubblicità semplicemente o qualcuno che non ci capiva poi molto e quindi diciamo che la voce fuori dal coro rispetto a quella che era la bellezza del progetto faceva notizie e quindi veniva sfruttato era talmente magari anche una piccola parte forse rispetto a... Eh sì o lo utilizzavano per attaccare... Strumentalizzato Sì sì